Siamo lodato Gesù Cristo. Gesù, nel Vangelo di oggi, parlando a scribi, farisei, dottori della legge, loro che detenevano la sapienza di Dio, purtroppo senza seguirla, nel Vangelo appunto li accusa di essere, come i loro pari, persecutori della vera sapienza di Dio, della vera parola di Dio, che è quella che viene e giunge direttamente dai profeti e non è quella distorta attraverso commenti o altre operazioni a proprio vantaggio. La deformazione della parola di Dio continua in quello che è il mondo della creazione, dalla creazione dell'uomo in poi. Il primo peccato di omicidio viene collegato da Gesù direttamente a questa causa. Abele, colui che offriva sacrifici puri graditi a Dio, i primogeniti, dei suoi greggi viene ucciso da Caino, che non aveva invece con Dio un rapporto lineare e sincero e offriva, forse dovutamente, i frutti della terra ma non le primizie e quindi poteva dare, come noi diciamo, la seconda mano, gli scarti. Dio viene dopo, prima viene purtroppo qualcos'altro. Ebbene, nelle due stirpi si distingue l'atteggiamento di chi parla con Dio e dà culto a Dio in modo retto e chi invece no. E inevitabilmente avviene che l'invidia di Caino, per quello che è il gradimento di Dio, che vuol dire c'è una manifestazione di Dio ben concreta e riconoscibile che Caino vede nei suoi sacrifici, quindi nella vita stessa di Abele, l'invidia provoca dunque il fratricidio. Ebbene, Gesù mette Abele come il primo dei profeti, il primo dei profeti che compie anche il sacrificio giusto, il sacrificio degli agnelli, dei primogeniti, del suo greggio a Dio. Questa posizione di Abele getta una luce su quello che è l'accoglimento o meno della parola di Dio nella storia dell'umanità. che seguono inevitabilmente questi due rami che si intrecciano fra loro nel lungo e complesso corso della storia della nostra famiglia umana, ma che ha sempre queste due caratteristiche, che rimbalzano di generazione in generazione, soprattutto laddove la parola di Dio ha iniziato ad essere più diretta e efficace per il bene di tutto quanto la famiglia umana, cioè il popolo di Dio. E' nel popolo di Dio dunque che questa invidia, questa falsificazione, questa distorsione della parola di Dio avviene proprio là dove dovrebbe essere più conosciuta, studiata e amata. Farisei, scrivi, dottori della legge e i sacerdoti del Tempio. Come Caino, Costoro hanno perseguitato i profeti e la generazione di Gesù perseguita quello che più di un profeta è il figlio stesso di Dio mandato sulla terra a proclamare direttamente la sua parola, la sua volontà e a mostrare il culto gradito a Dio in spirito e verità. Costoro saranno i Caini che uccideranno il Cristo. In quello che accade nella generazione di Gesù, nel tempo di Gesù e nell'operazione stessa di Gesù, c'è come la somma di tutta la storia dell'umanità. La storia del peccato è anche la storia della redenzione. Tutto il peccato dell'umanità viene riassunto nella vita di Cristo e assunto da Lui per farsene carico e offrire a Dio Padre come Abele un sacrificio gradito Dio offrendo non i primogeniti della gregge ma a se stesso come agnello sacrificale. Gesù dunque compie e termina, porta a compimento l'opera che è iniziata da Abele. Mentre invece tutta la somma degli assassini della parola di Dio e dei portatori della parola di Dio e della verità dunque coloro che sono nella falsità, nella menzogna, nel peccato volutamente la somma di tutti questi assassini viene concentrata lì nella vita terrena di Gesù e Gesù dice loro «A questa generazione verrà chiesto conto del sangue versato di tutti i profeti da Abele fino a Zaccaria, ucciso dal vestibolo e l'altare». Il sangue versato dunque dai profeti è colpa gravissima perché non è solo omicidio ma c'è la volontà di uccidere, di eliminare, di soffocare la parola stessa di Dio che è per il bene dell'uomo oltre che essere il suo diritto avere il culto della sua creatura, della propria creatura che è l'uomo. Ma oscurando la parola di Dio si oscura appunto il rapporto fra noi e Dio è dunque la possibilità della salvezza. Gesù risolve tutto questo dicendo «Io sono la parola viva di Dio fatta carne, io sono il Redentore perché sono l'agnello sacrificale, sono il profeta e più di un profeta, sono il sacerdote e più di un sacerdote, sono la vittima e più di una vittima, sono l'altare da cui sale il suave odore del sacrificio gradito a Dio e Dio lo gradisce». E questo va a riscattare il peccato di tutta l'umanità e va a dare a noi la possibilità, offrendo il sacrificio eucaristico al Padre, di riproporre, riattualizzare quel suave odore del sacrificio stesso di Cristo che è in riscatto per il nostro peccato. Noi dobbiamo metterci sempre tra i peccatori perché lo siamo, ma abbiamo questo dono, questa possibilità di essere ascoltatori della parola di Dio e nella nostra volontà, nel nostro cuore, e noi vogliamo offrire sacrifici graditi a Dio come il giusto avere, come tutti i profeti, come il popolo di Dio nella sua parte più santa e nella sua eccellenza, come Gesù. Noi possiamo dunque metterci dalla parte giusta ed essere purificati da questo sacrificio in modo tale che noi possiamo essere ascoltati dal Padre perché il Cristo ha pagato il nostro peccato e ci ha associati a Lui. Noi saliamo con Lui come sacrificio gradito a Dio perché siamo diventati una stessa parte di Lui. Questo ci toglie dalla generazione malvase e perversa dalla quale dobbiamo salvarci. Non dobbiamo esserci, essere accomunati o lasciarci accomunare a questa generazione. Dobbiamo scegliere di essere un'altra generazione, la generazione dei generati rigenerati in Cristo, da Cristo stesso. dice Gesù nella parabola di coloro che sono assunti a giornata per un'ora o per un'intera giornata a colui che è malevolo verso il padrone perché paga con lo stesso prezzo pieno colui che ha lavorato di meno. Sei forse tu invidioso perché io sono buono. Non è questo quello che spinge Caino a uccidere il fratello. In fondo c'è avversione perché c'è invidia per la bontà intrinseca di Caino ma anziché ricacciare questo senso di invidia il peccato sta alla tua porta ma tu dominalo dice Dio anziché fare questo Caino si riversa su quello che è la manifestazione dell'amore di Dio Abele e così viene con pienezza totalità universalità in Cristo e se noi dunque abbiamo una parte che è peccatrice peccaminosa in noi dobbiamo tenere questo peccato alla porta cioè non farlo entrare nel nostro cuore e chiedere di essere continuamente purificati dal sacrificio di Cristo e se non siamo giusti come Abele tantomeno come il Cristo la misericordia ci dona la possibilità di essere parte dello stesso sacrificio di Cristo quando noi partecipiamo all'Eucaristia infatti noi offriamo al Padre a nostro beneficio il sacrificio santo puro e gradito a Dio quello del Figlio per il bene nostro per il bene della Chiesa per il bene dell'umanità intera da che parte vogliamo metterci noi stiamo con Gesù non perché siamo buoni ma perché vogliamo diventarlo per mezzo della Sua grazia del Suo sacrificio e Lui ama questo chiedete e vi sarà dato un salto e vi sarà aperto riceverete lo Spirito Santo che vi purificherà e un domani sarete con me nel Paradiso Dio vi benedica grazie